Noi viviamo immersi nell'economia della conoscenza e quindi il capitale umano diventa il fattore competitivo più importante. Questo può essere un grande vantaggio perché noi abbiamo tanti giovani bravi che hanno talento e abbiamo anche delle strutture di formazione come la nostra che sono assolutamente competitive a livello internazionale. Ma dall'altro lato dobbiamo avere un sistema delle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, che è capace di valorizzare questo capitale umano. Non sempre questo avviene e quindi ci vuole una politica globale che aiuti il sistema produttivo a crescere e fare in modo che i nostri giovani possano trovare occasioni di lavoro qualificato nel nostro territorio.